Insieme arrivano appena a 41 anni e insieme sono stati gli autori di una serie di furti e tentati furti commessi di notte in danno di numerosi esercizi pubblici e negozi di Morbegno. Entrambi residenti in bassa valle, entrambi con precedenti di polizia e tossicodipendenti. Per loro la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio ha richiesto e ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. determinanti si sono rivelate le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza pubblica e privata presenti nei pressi dei luoghi interessati dagli episodi che i militari dell'arma hanno acquisito e pazientemente analizzato, riuscendo così a ricostruire gli eventi e a identificare gli autori. Un giovane uomo classe 2002 di origine straniera e un altro classe 2005, soltanto 19 anni, dunque italiano. Nel corso della perquisizione personale domiciliare sono stati recuperati e restituiti al proprietario 13 telefoni cellulari e la somma di circa 300 euro risultati essere parte del bottino asportato da un negozio di elettronica di Morbegno in via forestale la notte del 28 gennaio. Si trovava invece già dietro le sbarre per una serie di furti commessi in provincia di Lecco il 33enne arrestato dai carabinieri di Delebio in esecuzione di un'altra ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Sondrio su richiesta della Procura. Grazie alla meticolosa attività di indagine svolta dai militari di Delebio, l'uomo, un italiano senza fissa dimora, è risultato essere l'autore anche di una serie di furti aggravati commessi in danno di ristoranti, macchine in sosta e abitazioni del comune di Delebio tra ottobre e novembre dello scorso anno. Grazie a tutti.